Ho trovato, ho trovato che il detenuto non è un contenitore fisico, c'ha la sua anima e il suo cuore e quindi la sa esprimere, che se uno ha fatto del male sa fare anche del bene. E' già tanto, è già tanto. Dimmi. Buon atto. Buon atto. Buon atto. Buon atto. Buon atto. Buon atto.